Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Come state? Avete passato dei bei giorni di ponte? Io sì, a casa, con la pioggia, il freddo, ho fatto un sacco di cose, ho stirato tanto, ho rammendato, aggiustato le cose che erano lì da un po' di tempo da sistemare. Quattro giorni di relax, di pace, con i tempi più lunghi, che bello, mi sembrava quasi di essere in pensione, anche se non l'ho mai provato, veramente, bellissimo, stamattina un trauma, ritornare in ufficio, ma, ma il riscaldamento era acceso, quindi la settimana è già iniziata benissimo, con questa cosa, avremo poi un altro giorno di fere del primo maggio e quindi direi che va bene così. Settimana per me è molto intensa perché domenica prossima i miei bambini di quarta elementare riceveranno il sacramento della prima comunione e quindi sarà una settimana dedicata alle confessioni, alle preparazioni, a fare le prove perché devono entrare in chiesa in un certo modo, sono 34 bambini e quindi siamo un po' tutti così, anche noi catechiste, in fermento, in agitazione, una bella emozione. Per me è la prima volta che accompagno dei bambini al sacramento della prima comunione e quindi sarà sicuramente emozionante anche per me. Ma iniziamo subito con il video che una volta al mese faccio, dello svuota il bagnetto con tutti i detersivi, detergenti per la casa, per la cucina, finiti e iniziamo subito. Vediamo se c'è qualche chicca, ma sicuramente sì. Come al solito pesco così senza nessun ordine e vediamo che cosa ci capita. Allora, ammorbidente coccolino, nuovo, con profumazione e sensazione di seta, buonissimo. Questi ammorbidenti, al profumo, è un fiorito primaverile, dolce, rosa, un fiorito rosa, buonissimo. Questi ammorbidenti quando li uso non intensifico neanche con il profumatore perché sono molto molto buoni. Quindi questi sicuramente quando li trovo in offerta li prendo sempre, sempre, sempre. Poi, queste tavolette per il WC della Bref Luxury Narciso Sublime, allora, sono colorate ma volevo dare questo annuncio alla mia amica Ilenia che non colorano il water. Quindi quando l'acqua scende non colora, profumano tantissimo, veramente, ma non colorano anche se sono colorati. Quindi, Ilenia, se magari ti serve questa informazione, sappilo. Bref, anche queste comprate da acqua e sapone in sconto, ottime, ottime. Poi, allora, qui adesso vedrete una selezione di detersivi per la lava stoviglie, ma poi mi è successo un fattaccio, ragazzi. Quindi, sempre gli stessi dual power, ottimi, buoni, puliscono bene, lasciano le stoviglie belle, come si dice, brillanti. Allora, questo è un 3 in 1 perché, appunto, pulisce le stoviglie, le igienizza e ha anche un'azione per brillantante. Quindi, ottime. Mi sono trovata benissimo. Penso di averli finiti quasi tutti, questi. Poi, Vicinet Candeggina Gel. Mi è piaciuto, igienizza, pulisce, colora al momento quando lo si mette sul WC, ma non lascia restibile niente. Preferisco, però, quello disincrostante perché, secondo me, ha un'azione molto, molto più aggressiva dal punto di vista del calcare. Non tanto dello sporco, ma proprio del calcare. Però, comunque, un ottimo prodotto e adesso io lo utilizzo in maniera continua e quindi capisco che anche il bagno rimane più pulito, anche se io lo pulisco tutti i giorni, però, con questo detergente sicuramente, ho un capello, sicuramente aiuta molto. Preferisco, però, il disincrostante. Poi, ho finito la chiappa colore della Grey. Allora, io questi li utilizzo per sicurezza perché ho paura che magari qualche capo nuovo mi rilascia il colore. Non mi succede mai nulla, preferisco inserirlo quando faccio, appunto, il lavaggio dei colorati misti o, magari, dei neri dove ci sono dei jeans nuovi, delle felpe abbastanza scure. Li utilizzo perché ho paura che anche un piccolo rilascio di colore poi mi vada a rovinare le altre indumenti. Li metto sempre per sicurezza. Quindi, sia quello della Grey, sia altri che ho in giro, che magari trovo in offerta o mi vengono regalate perché c'è una mia zia che mi regala sempre questi e i fazzoletti amborbidenti e profumatori per l'asciugatrice che non trovo molta differenza, però lei me li regala e io li uso così per non fargli un dispiacere. Quindi questo, comunque, come sempre, è buono. Poi, 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 si ha l'igienizzante form contro germi e batteri. Allora, siccome più di una volta sono andata sul sito e non ho trovato il bottiglione grande per igienizzare i capi nella lavatrice, io ho comprato questo che è igiene sicura su tutte le superfici e l'ho utilizzato nella lavatrice e vi devo dire che ha fatto il suo lavoro perfettamente. I capi erano igienizzati, belli, puliti. Lo utilizzavo soltanto quando andavo a fare il nero. Il nero, il grigio, lo scuro, i grempiuli di mattia del lavoro, quindi delle cose che avevano bisogno proprio di essere igienizzate. Però, ottimo, mi è durato un casino, ne bastava poco. Quindi, anche se era per i pavimenti, io l'ho utilizzato sui capi, sugli indumenti scuri. I prodotti Sial sono ottimi, peccato che io ne trovo veramente pochi nei miei discount. Finito questo, che non so neanche più se esiste perché era un repertorio dell'anteguerra che avevo nella casa di montagna che abbiamo lasciato e ce n'era tanto così. L'ho utilizzato per i capi delicati, per quando lavo i campioni delle maglie, dei lavori a maglia che sto facendo, per qualche capo che va lavato in velocità, anche se non è magari tanto sporco. Va bene, insomma, ha fatto il suo e poi l'ho finito. Probabilmente era talmente concentrato, dopo anni che non l'usavo, che era buono lo stesso, insomma. Poi, spuma di champagne a lavatrice pulito e igiene con olio al T3. Mi è piaciuto tantissimo. Un profumo fresco di T3, ma non quel T3 medico che magari anche qualche volta ci mettiamo sul fazzoletto perché ci deve liberare il naso quando abbiamo il raffreddore, non balsamico. Proprio un bel pulito di fresco, un pulito verde, un profumo verde. Buonissimo, mi è piaciuto tantissimo questo detersivo e sicuramente quando lo ritrovo in offerta lo ricompro. Sempre da Tigotà o Acqua e Sapone. Poi, eccolo qua, ACVC gel disincrostante. Per me il migliore, il migliore, il migliore. Un colore verde che vi colora tutto, anche l'acqua, che scende dopo un po'. Però, dopo due o tre sciacquoni che vengono tirati, insomma, viene pulito. E secondo me è proprio il migliore. Il migliore, davvero. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo sia in offerta che non in offerta lo ricompro sempre. Poi, sempre della Duck. No, quell'altro forse non era Duck, era un'altra cosa. Active Clean Garden Escape. Anche questi sono molto, molto buoni. Profumano e non colorano il butter. Quindi, sappiatelo. Sono veramente molto, molto buoni. Non si sciolgono. Sapete che ogni tanto qualche tavoletta, magari, rimane lì, si scioglie, viene giù il pezzettino. No, no, questi rimangono integri, sono veramente ottimi. Poi, vabbè, cosa ve lo dico a fare? Questo era un bottiglione gigantesco da 86 lavaggi, che sicuramente io non ho raggiunto. Formato convenienza, Fragrance Therapy, oro e fiori di vaniglia. È buonissimo, è intenso. È piacevole anche stirare, perché quando poi stirate, il profumo dei capi belli puliti, insomma, vi inebria, vi inonda. È buonissimo prodotto, ma questo ormai lo sappiamo. Speriamo che non cada nulla. Poi, guardate bene cosa c'è scritto qua. Guardate bene, un litro e sette di detersivo per piatti. Che cosa mi è successo? Mi si è spaccata la lavastoviglie e continua a spaccarsi. Probabilmente è arrivata un po' alla fine del suo cammino. Sono nove anni che ce l'ho e continua a darmi un sacco di problemi. Una volta la scheda, una volta il pulsante, una volta si stacca lo sportellone. È vero che io la lavastoviglie la utilizzo veramente tantissimo, due volte barra tre al giorno, perché quando cucino ci metto dentro tutte le pentole, perché ci metto dentro di tutto, veramente. Però la lavastoviglie è rimasta ferma e in più c'erano dentro le vacanze di Pasqua. E poi è andata avanti oltre, perché ho aspettato tre settimane dall'ordine della scheda e quindi, niente, ho fatto fuori un barilotto da un litro e sette di eco ricarica di svelto. A dire la verità sono arrivata a metà anche di un altro, ma che sto utilizzando. Ne ho dentro tanto così e lo finirò l'anno prossimo, perché spero che non mi si rovini più, insomma. Anche se sto aspettando altri pezzi che si sono danneggiati, le guarnizioni, insomma. Ma riesco ancora a utilizzarla. È buonissimo, 100% performante, 99% di ingredienti biodegradabile, all'aceto, ma non si sente l'aceto. Un profumo di agrumi molto fresco, piacevolissimo. Non rovina le mani, perché io non utilizzo guanti per nessun tipo di pulizia. Se non quando, con il detersivo potentissimo, lavo la cappa o, dopo aver imparato che bisogna usare per alcuni tipi di detersivi, i guanti, ma per il resto io non utilizzo guanti. E questo è davvero molto, molto buono. Un litro e sette. E speriamo di non averne più bisogno. Vediamo, vediamo. Allora, ace gentile, fresco profumo, ottima, buonissima. Adesso ho preso il barilotto da 5 litri. Ve l'avevo fatto vedere quando l'avevo comprato. Niente, io l'aggiungo ad ogni lavaggio di capi colorati e scuri. È buonissima. Che altro dire, il profumo è delicatissimo, non sa di candeggina. Anche se, chiaramente, l'ace gentile ha un potere diverso. Diciamo che igienizza, ma non smacchia, non decolora il tessuto. Buonissimo prodotto. Abbiamo, forse, quasi finito. Questa volta abbiamo fatto qui la svelta. Ah no, vediamo cosa c'è qui. Ali, un altro amore della mia vita. Sapone ecologico per bucato della Sial. Buonissimo. Io lo utilizzo sia in lavatrice, sia a mano, sulle superfici della cucina. È davvero un prodotto meraviglioso. Ne ho trovati, forse il mese scorso, li ho visti all'Eurospin e ne ho comprati quattro di botto. Perché poi, da me, non arrivano molto spesso. Arrivano una volta ogni quattro o cinque mesi. E quando li trovo, ne faccio veramente scorta. Perché è proprio un prodotto meraviglioso. Questo lo prendo sempre. E il costo è veramente esiguo. Poi, che cosa abbiamo finito ancora? Tesori d'Oriente, il mio preferito. È il mio preferito in assoluto. Anche il profumo è il mio preferito in assoluto. Per Sian Dream, è niente. È niente. È buonissimo. Profuma di melograno, profuma di tè rosso. Una profumazione fresca, intensa, allegra. Questo è uno spettacolo. Ogni tanto li ricompro. Se li trovo in sconto, ancora meglio. Ma anche se non sono in sconto, questi, il peccatuccio, lo faccio. Perché sono veramente molto, molto buoni. Il profumo è divino. Uno prova anche piacere, no? A fare le pulizie, a lavare. Quando ci sono dei detersivi che hanno un buonissimo profumo. Altra scoperta miracolosa per me. Questo Ambipur bagno che avevo comprato su Top Store Caldarelli. E vi devo dire che funziona, funziona, funziona. Penso proprio che rispetti anche i 50 giorni di profumazione. Perché da quando l'ho messo dove c'è la scarpiera nel bagnetto piccolino, penso sia già passato più di un mese abbondante. Siamo leggermente sotto la metà e il profumo si sente veramente molto, molto buono. Quindi penso di aver trovato il profumatore per ambiente del bagno che appunto tolga i cattivi odori e rilasci il suo profumo. Ottimo. Poi ho finito queste tre onda attiva antigraffio che secondo me sono le migliori della Bileda. Le ho finite tutte e tre perché poi sapete che ce ne ho forse ancora una e le altre due le ho rovinate, le ho buttate. Perché lavando i piatti a mano si consumano anche le spugnette. Queste per me sono le migliori perché durano di più e quindi finite anche loro. Poi, 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 ultimo prodotto. Sì, ho svuotato tutto. Il disgorgante gel con caddeggina della Conad. Io li uso, non ho una predilezione perché tutti fanno un ottimo lavoro e questo lo uso soprattutto per la doccia dei ragazzi. Nel senso che Lucia ha i capelli molto lunghi, ne ha tantissimi e spesso si intasa la doccia. Quindi questa è, diciamo, la soluzione che ci permette di continuare a fare la doccia nel bagno dei ragazzi. Buono, fa il suo lavoro. Quindi anche di questo ne prendo sempre due o tre di scorta. Poi se magari c'è qualcosa in offerta, compro anche in offerta. Però devo dire che il lavoro che fa è uguale a quelli di marca, diciamo. Bene, ragazzi, ho finito. Vi ho fatto un po' di compagnia in questo inizio di settimana. Speriamo che le temperature leggermente salgano, non troppo, perché se no poi saremo qui, almeno io, a lamentarmi per il caldo pazzesco che fa. Oggi la giornata è un po' nuvolosa, ma con qualche raggio di sole. Chissà se al primo maggio, festa di tutti i lavoratori, e quindi ci festeggiamo tutti, ci sarà una bella giornata. Io vi do appuntamento ad un prossimo video. Spero di riuscire a registrare prima di domenica, magari qualcosa di breve e di corto, perché appunto vi ho già spiegato prima che sarò abbastanza indaffarata. Ebbene, buona continuazione di giornata, buona continuazione di settimana. Mi raccomando, fate sempre quello che vi fa stare bene, come dice la mia amica Paola Gattaluna Kimono Blu. E niente, ci salutiamo e ci rivediamo prossimamente. Un bacione e grazie. Ciao!